Ciao a tutti e benvenuti nel canale, in questo video voglio fare un attimo di chiarezza sulla moneta blu della settimana 7 della stagione 3 di Fortnite capitolo 2 che non esiste, non esiste, non c'è, non è stata trovata, non so se si tratta di un bug, di una dimenticanza da parte di Epic Games, di un errore nel conteggiare le monete non lo sappiamo, sta di fatto che non esiste attualmente, non c'è, non fatevi ingannare dai tanti youtuber soprattutto stranieri che dicono ho trovato la quinta moneta e poi vi mostrano la posizione della moneta delle vecchie settimane, cioè tipo vi mostrano le prime 4 monete blu della settimana attuale o meglio della scorsa perché oggi è domenica quindi della 7 e l'ultima moneta vi mostrano una moneta vecchia per dire guardate ce l'ho fatta, l'ho trovata sì caro amico ma quella moneta è vecchia, non l'hai recuperata o stai cercando di prendere in giro gli utenti mostrando una vecchia moneta che magari hai recuperato in passato ora io vi mostro la scheda punti delle monete blu le monete blu sono attualmente 24 24 ne manca una all'appello perché nella settimana 7 sono 5 ma si trovano solo 4 monete e ho fatto un video dove vi ho scritto per correttezza 4 barra 5 perché la quinta moneta attualmente non c'è ora io vi mostro prima di concludere il video la posizione della quinta moneta secondo molti youtuber ma non c'è assolutamente nulla quindi se andate lì non perdete tempo se vedete magari un video di un youtuber straniero che vi dice che la moneta è lì e ve la mostro adesso la posizione non sprecate il vostro tempo a meno che non l'abbiate recuperata allora è un altro discorso ma sono attualmente 24 monete blu quindi se avete 24 monete blu non sprecate il vostro tempo perché non c'è non c'è si vocifera che sia la fortiglia alcuni dicono che sia alla tra virgolette atlantide ma sono dicerie vi posso assicurare che mi sono girato la mappa dall'inizio alla fine non l'ho trovata assolutamente ho preso in esame diverse teorie sono andato alla fortiglia sono andato alla nuova località ho distrutto praticamente tutto non c'è la moneta blu attualmente non c'è secondo gli youtuber dovrebbe trovarsi qua praticamente ma vi posso assicurare che non c'è un piffero non c'è nulla sono 24 le monete blu poi se dopo l'aggiornamento Epic la introduce non lo sappiamo anche perché tenete presente che allo stato attuale anche le monete oro sono buggate ad alcuni ovviamente me compreso infatti per questo motivo non ho fatto il video si dice che la moneta sia qui ma vedete un bagliore? assolutamente no infatti se distruggete questa canoa non esce assolutamente un piffero non ci sono monete blu nella canoa non c'è la moneta blu ovunque sulla mappa non esiste attualmente non c'è non sappiamo se è un bug non sappiamo se è una dimenticanza non sappiamo il perché ma attualmente le monete blu sono quattro e sono quelle che vi ho mostrato in un precedente video grazie a tutti